beh perché non non seguo tutti questi guru della crescita personale e anche della spiritualità ne ho conosciuti tanti nella mia vita di guru e qualcuno di loro in particolare mi ha dato da qualcosa ma a lungo andare non mi ha dato nulla ma vi spiego perché quindi secondo me non è più una cosa sostenibile tutta questa fumo che c'è dietro la spiritualità la crescita personale i seminari di mindset e cazzi e mazzi quello che facciamo durante la nostra vita no è una attività molto naturale molto spinta al naturale quei tre giorni quattro giorni cinque giorni che noi facciamo di spiritualità in un posto o di crescita personale in un altro non sono altro che delle come si dice invasioni della nostra naturalezza del nostro essere che pensiamo di poter portare avanti per tutta la vita e di diventare quelli che vorremmo diventare solo perché abbiamo preso la pillola magica dal guru di turno e il segreto dal guru di turno appunto spirituale per poter diventare quello che si vuole diventare ma la verità è che niente nessuno ti può dare quella quello che ti serve appunto per poter diventare quello che vuoi diventare allora partiamo dal concetto di per me di crescita personale di spiritualità intanto la crescita personale dal mio punto di vista con la parola già crescita non andiamo d'accordo perché quando parliamo di crescita già stiamo mettendo a noi stessi l'idea che noi non siamo in una situazione in cui possiamo già essere maturi come se dobbiamo crescere ancora come se ci manca qualche pezzo come se dobbiamo continuamente aspirare a qualcosa di più di noi stessi e nel mondo tanti parlano di questa crescita cosa che io non condivido più come concetto di crescita personale appunto perché per me conta tanto quelle persone che dal punto in cui si trovano già riescono a fare qualcosa e non voglio smanettarli di di essere di più di dire fai di più si migliore si perfetto si più efficace rispetto a quello che sei per me è più importante far aiutare le persone a comprendere quelle che sono le loro già unicità e che cosa sono già in grado di fare quindi non crescere ma prendere il buono che già c'è e metterlo in azione infatti non parlo di crescita personale ma parlo di consapevolezza personale nel durante i miei percorsi ora andiamo invece alla spiritualità per me la spiritualità alla fine è un modo per attaccarti a qualcosa che non è in questo momento comprensibile razionale però senti che ti dà del ti fa del bene senti che c'è qualcosa di mistico dietro e questa cosa qui che ti dà l'idea che c'è qualcosa di più che gli altri non non si vede che però percepisci che c'è ti dà quel senso di tipo comprensione che tu vai oltre il materiale ma la verità è che tutto è materia anche la non materia è materia perché comunque lo spirituale di ciò che parla alla fine parla di tante cose ma sono tutte sempre le stesse cose riciclate e contro riciclate da tante tradizioni religioni e culture con altre parole e altri concetti quindi tutti coloro che si inventano qualcosa di nuovo un concetto un nome un branding nuovo rispetto alla spiritualità sta semplicemente copiando incollando qualcosa di già esistente e che lo fa per magari si posizionarsi a livello di mercato però non è niente di più o di meno di una semplice magari abitudine che potrebbe essere quella di fare tutti i giorni dell'attività fisica di tutti i giorni dedicarsi alla pace mentale al silenzio la meditazione a tante altre cose tipo come la consapevolezza persone delle proprie emozioni che sono pratiche che tutti quelli che non hanno fatto spiritualità e ne fanno i gur e ne fanno seminari spiritualità fanno ogni giorno da da sempre solo che lo fanno in diversi modi e non sono nemmeno non hanno dato un nome a tutto ciò solo che la spiritualità per darti quel senso di appartenenza anche a qualcuno che è più in alto e più buono rispetto agli altri magari è contro la chiesa e quindi va con l'antichiesa ci si appoggia a qualcuno che ha una credenza comune alla nostra ma non è alla fine quella credenza comune alla nostra di quel personaggio che noi stiamo condividendo ma stiamo condividendo anche le sue idee le sue pratiche le suoi concetti del perché è buono fare qualcosa e poi ti porta dove ti vuole portare a venderti le loro pratiche perché quello ti aiuta a fare di più a diventare migliore è questo aprire il cuore il terzo chakra il quarto chakra e cazzi e mazzi ora parliamoci terra terra quanto ti serve fare yoga o comunque uno spirituale se poi non riesci ad entrare in empatia con le persone cosa che non ti aiuta stare silenzio da solo in una stanza a meditare entrare in relazione con le altre persone fino a un certo punto ti aiuta secondo me la spiritualità non ti porta infatti i guru della sportività a diventare intelligente a livello relazionale quello che invece oggi c'è più bisogno di fare proprio diventare più essere umane a livello relazionale con due persone di fronte che parlano e sanno comunicare in modo pacifico non violento questa cosa la spiritualità non te la insegna la spiritualità ti gonfia il tuo ego che tu sei illuminato che tu sei bello retto che stai canalizzando l'energia dell'universo e per pompare quella parte di te magari anti conformista che che ti senti che non ti ritrovi in questa società come come figura conformista agli altri e quindi ti sei trovata un altro conformismo che lo chiamiamo anticonformismo proprio per il senso di appartenenza che è uno dei bisogni più profondi di ogni essere umano e lo sanno benissimo chi ha creato le religioni le religioni le hanno create le comunità le culture le hanno create proprio perché sanno che nel profondo ogni essere umano ha bisogno di appartenere a qualcosa e quindi è facile cadere nella trappola della spiritualità e invece è difficile ritornare con i piedi per terra a prendere contatto con quello che abbiamo intorno con innanzitutto con noi stessi e con le persone intorno a noi che sono i nostri familiari gli amici intorno la società in generale invece no ce ne andiamo in cura la montagna giriamo il mondo però non ci parliamo con nessuno e non vogliamo avere a che fare con nessuno del nostro territorio già questo dice tanto oppure nel nostro territorio pensiamo che tutto va bene fuori dal nostro territorio non c'è una minchia su cui fidarsi anche quella ci sono gli estremismi della spiritualità locale quelli che si sono create alla fine poi come si chiamano le comunità gli ecovillaggi le comunità tutto all'interno che fanno tutti quanti le loro cose quelle che stanno fuori sono i cattivi cioè da un punto di vista dall'interno della comunità all'esterno c'è questo estremismo spirituale ma anche dal punto di vista di chi guarda l'interno come un male quindi intorno e va a vedere sempre fuori che c'è il bene se ne va nell'altra nazione, un altro continente, un altro stato, regione, città e rimane intrappolato sempre nella logica di non riuscire ad avere una relazione relazionale con i propri cari, con i propri amici, con chiunque nella nostra società quindi la spiritualità che non porta poi in una situazione in cui ti fa essere un essere umano con chiunque è di fronte a te dove tu non sei più alto rispetto a lui solo perché fai le pratiche di yoga o di home o di meditazione attiva o di vocalizzi o quello che cazzo vuoi oppure di quelli che fanno la crescita personale che fanno tutti i giorni delle pratiche belle, ottimizzate del tempo, del fisico, della mente, le domande, strutturato parlano in modo preciso perché le parole sono importanti e quindi no, sono pignole sulle parole e vogliono il perfetto, il corretto grazie, cazzo che poi non vai d'accordo con nessuno perché comunque nessuno del mondo, nessuno del mondo può essere come tu credi possa diventare ognuno ha la sua storia, c'è i suoi tempi e tutti, entrambi, sia la spiritualità che il crescita personale ha questo fanatismo di poter cambiare gli altri questo è il problema e per questo mi tengo lontano, che ti danno una visione che tu sei il salvatore degli altri che tu puoi aiutare gli altri a cambiare che tu puoi essere il loro guru appunto e che tu sei venuto con una missione quella di aiutare gli altri e che lo devi fare perché gli altri non hanno capito tu hai capito una cosa che gli altri non hanno capito e lo devono capire come te ma dove stiamo andando con questa presunzione? con una persona che ti trasmette delle idee che belle, favolose e ti dice che anche gli altri le idee queste idee devono credere perché così staranno bene tu pensi di aver trovato la soluzione ai problemi di tutte le persone quindi io non sto più dietro a questi assolutismi al guru che hanno la verità in tasca e penso che ogni essere umano c'è una storia a sé un bisogno a sé ed è c'è bisogno di ascoltare ogni persona e personalizzare per ogni persona un tipo di relazione se vogliamo chiamarlo accompagnamento se vogliamo chiamarlo processo quando si entra in relazione boh mi sono già prolungato però in 10 minuti 11 minuti forse ho detto quello che penso sia della crescita personale dei guru e perché mi tengo lontano per approfondire forse farò un altro video per il momento mi fermo qui ciao se vuoi lasciare comunque un commento o un like in questo di quello che ti ho detto se ti è piaciuto fallo così capisco che questo è un argomento che ti interessa e potrei approfondire ulteriormente ciao